A chi bussa sarà aperto, a chi chiede sarà data una risposta. Il problema è che noi pretendiamo risposte tenendo il sedere incollato su una sedia. Non funziona così. Ma non perché questo non potrebbe essere valido, ma perché la verità non può essere una cosa che ti dice Caria. Tu la verità la farai tua solo quando la sperimenti nella tua vita. È come assaggiare il sapore di un cibo. Non posso assaggiare un bel gelato al pistacchio con la vostra bocca. Per sapere quanto è buono quel sapore me lo devo mangiare io. E quando io ho mangiato la verità non ci sarà più un Draghi, un Biden o un Putin che mi frega. Invece se noi rimaniamo incollati a casa a farci gli affaracci nostri, tra l'altro quelli sbagliati, continueremo a soffrire.